Ciao ragazzi, come anticipato su Instagram, questa mattina, durante l'Anime Expo, è stato rilasciato il nuovo trailer di Bleach, dell'ultima stagione dell'anime, La Guerra Millenaria. A detta dell'autore del manga, Titekubo, questo trailer dovrebbe essere qualcosa di pazzesco, quindi andiamo subito a vedere. Vediamo un pochettino, dai, sono troppo curioso. Il re dei queenshi. No, secondo me ci vorrebbe un rewatch, ci vorrebbe proprio un rewatch perché sono passati undici anni, mi pare, e c'è un sacco che non guardo Bleach. Sicuramente si capirà la storia, però ricordare tutte le storie dei personaggi. Oh, bello, bello quel dito perché ho visto tante ombre, gli ultimi nove giorni del mondo. Oh, oddio, già sento, già sento lui, il compositore di Evangelion, che è quello di Bleach. Già lo sento, già lo sento. Bello il cara design, mamma quanto è bello il design. Ma anche sti colori sono bellissimi. Ok. È una presentazione dei personaggi, di nuovo. Oh, Rukia, quanto è bella Rukia! Mamma quanto è bella rispetto all'altra serie. C'è cattivo! Quante ombre! Oh, no, vabbè. No, io sto sentendo Evangelion, perdonatemi. Mamma mia, no, aspettate. Cioè, questa musica mi sta mettendo in brividi. Non ce la faccio. Ma belle pure le animazioni. Belle pure quelle. Io sti personaggi purtroppo non li ricordo tanto. Vabbè, alcuni sì. Vabbè, figurati, figurati. È tutta una presentazione. Ma anche il primo trailer mi pare fosse simile. Quanto sono belli i volti. Quanto sono belli. E questa è la nuova immagine promozionale dell'anime. C'ho i brividi, c'ho i brividi. Meraviglioso. Trailer veramente bello. Non me l'aspettavo così, però... Ma che cazzo di ombre! No, vabbè, bellissimo. Non mi aspettavo una presentazione dei personaggi anche in questo trailer, perché pure nel primo vedemmo una cosa del genere. Certo, questa volta è ancora più figa e quello che vedo credo proprio non sia preanimazione e che quindi quelle scene che abbiamo visto forse le vedremo proprio all'interno dell'anime. Speriamo, perché la qualità tecnica mi piace tantissimo. Sembra veramente fantastica. Più che per le animazioni, però per i colori, per le ombre, per i dettagli. Sembra veramente stupendo. La colonna sonora del trailer è qualcosa di pazzesco, perché in effetti abbiamo a lavorarci sempre Shiro Sagisu, che è lo stesso compositore anche di Evangelion e anche delle prime stagioni di Bleach. Quest'ultima stagione di Bleach inizierà ad ottobre, però l'11 settembre a Tokyo si darà un evento speciale nel quale proietteranno i primi due episodi in anteprima. Non so se potremo vederli anche noi, forse no, però verranno pubblicati in anteprima. Questa è la nuova immagine promozionale dell'anime, che è, secondo me, bellissima. E una delle notizie più belle riferite a questo nuovo adattamento animato è che Titecubo, l'autore del manga, pare abbia rivelato proprio che molti buchi presenti nella trama del manga dovrebbero essere corretti colmati all'interno dell'anime. Lo spero davvero tanto, perché in effetti nel manga questa parte finale è davvero deludente, secondo me. A parte la bellezza di quest'ultimo volume invariant. Detto questo, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo nuovo trailer dell'anime e cosa vi aspettate da quest'ultima stagione. Sicuramente farò altri video sull'anime expo, perché in effetti sta uscendo un bel po' di roba e sto sperando che arrivi anche qualcos'altro di molto grande. Lasciate un mi piace del piaciuto, si sono i risultati nel prossimo video.